Buongiorno amici, questo è il resto del Carlino Tg del 25 marzo. Cominciamo dalla cronaca, una notizia che viene da Bologna dove c'è un caso di pedofilia che riguarda un 61enne che avrebbe abusato lungamente di due minori. Vediamo un po' i particolari. I carabinieri del comando provinciale di Bologna insieme agli agenti della Questura, su ordine della Gip di Bologna Pasquale Gianniti, hanno arrestato ieri pomeriggio un 61enne accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due minori che saltuariamente nel corso degli anni tra il 2001 e il 2007 gli venivano affidati in custodia. Le indagini sono iniziate il mese scorso dopo che uno dei due minorenni ha raccontato ai genitori gli abusi ai quali era stato sottoposto negli anni dall'uomo. Dalle indagini è emerso che, analogo comportamento violento, l'uomo aveva tenuto anche nei confronti di un altro ragazzino, anche questo affidatogli saltuariamente. Gli inquirenti, per tutelare al massimo i due ragazzi e per evitare una loro possibile individuazione, non hanno reso noti altri particolari, nemmeno circa la località in cui gli abusi sono stati commessi. Restiamo alla cronaca nera, parliamo adesso di Modena, dove un imprenditore 55enne è stato ferito alle gambe l'altra sera. Abbiamo già dato notizia di questo ieri, adesso vediamo un servizio che racconta i particolari e fa anche il punto delle indagini. Sentiamo Alessio Bertini. Un imprenditore di 55 anni, Fuglio Pugliese, è stato gambizzato ieri sera nel garage della sua vecchia abitazione. È successo a Modena due passi da una residenza per universitari. L'uomo è stato trasportato d'urgente all'ospedale di Baggiovara, ha riportato una frattura ad una gamba ma le sue condizioni non sono gravi. Il fatto è di ieri sera intorno alle 22.30 Pugliese si era recato assieme alla moglie nell'abitazione da cui hanno da poco traslocato per controllare alcuni lavori di tinteggiatura. Mentre la moglie è salita nell'abitazione l'imprenditore è sceso nel garage. Qui è stato avvicinato da due uomini, uno dei quali gli ha sparato le gambe prima di fuggire. Due colpi all'altezza del ginocchio. Le indagini sono a tutto campo. L'episodio ha fatto pensare le modalità di avvertimenti di stampo mafioso camorristico, ma non si può escludere che si tratti invece di un tentativo di rapina finito con violenza. Anche il passato, dalla vittima al vaglio degli inquirenti, l'uomo fino a qualche anno fa ha gestito un'azienda che si occupava di informatica e attualmente avrebbe interesse in compravendite edilizie. Torniamo a Bologna per raccontare di un'operazione del NAS, il nucleo antisofisticazione contro il cosiddetto doping da palestra. Vediamo un po' i particolari. Nelle prime ore di oggi i carabinieri del NAS di Bologna hanno eseguito 12 ordinanze di custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, 6 misure cautelari, il sequestro di una palestra e di un negozio di integratori alimentari ed 88 perquisizioni domiciliari a carico dei componenti di un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanze dopanti destinate ad atleti, sportivi e frequentatori di palestre. L'operazione ha riguardato diverse province dell'Emilia Romagna, della Campania e anche della Sardegna. Parliamo adesso di un tema molto delicato, quello della donazione degli organi. C'è un incremento dei donatori e questo è un aspetto molto positivo e poi c'è anche un testimonian di eccezione che è la cantante Laura Pausini. Vediamo il servizio di Alessio Bertini. Buone notizie in Emilia Romagna sul fronte della donazione organi. Aumentano infatti i donatori e i trapianti e si aggiungono sempre maggiori innovazioni al sistema. Il report 2008 presentato dall'assessore alle politiche per la salute Giovanni Bissoni fa ben sperare e conferma che la rete regionale dei trapianti è un sistema solido. Ma non ci si ferma qui e per incrementare l'attenzione dei cittadini verso questo importante tema prende il via la campagna di sensibilizzazione dal titolo Donare gli organi, una scelta consapevole che ha come protagonista niente meno che Laura Pausini. Materiali informativi, iniziative, eventi speciali, tutto per aumentare la conoscenza sull'opportunità di dichiararsi potenziali donatori e per diffondere maggiore consapevolezza. L'attività di trapianto è sicuramente un elemento di eccellenza di questo servizio sanitario regionale, questo grazie a una straordinaria capacità organizzativa, una straordinaria competenza professionale dei nostri operatori ma alla base di tutto c'è la disponibilità alla donazione. La donazione è un atto gratuito però riteniamo che questo non contrasti con il bisogno, il dovere che una società regionale debba riconoscere questo straordinario atto di solidarietà. I percorsi della memoria per non dimenticare, questa è l'iniziativa della CGL della provincia di Piacenza rivolta ai giovani delle scuole superiori. Vediamo il servizio di Simona Anzola. Parlare per non dimenticare, a più di 60 anni dalla fine della seconda guerra mondiale ancora tanto resta da dire, da vedere e da capire. CGL e provincia di Piacenza hanno creato i percorsi della memoria, tre incontri con tre testimoni privilegiati della nostra storia per approfondire il percorso che ha consentito all'Italia di divenire un paese fondato sui valori di libertà e democrazia. L'iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole superiori di tutta la provincia perché sono loro, i ragazzi, i cittadini di domani e sempre a loro, ai giovani, è dedicato un percorso formativo voluto dalla provincia di cui tappe fondamentali sono state il viaggio d'Aufiz e la seguente testimonianza fatta proprio dagli alunni in consiglio provinciale. Ed è giusto trasmettere queste cose soprattutto in quegli istituti scolastici, quegli studenti che hanno 18-19 anni, insomma che sicuramente pensano ad altro anche giustamente, però insomma devono sapere in che mondo vivono e come questo mondo è nato. I tre incontri che si terranno il 25 e 26 marzo e il primo aprile avranno come protagonisti Valerio Onida, Carlo Lucarelli e Daniele Biacchessi. La storia non è che può essere riscritta, la storia va approfondita, i giovani cittadini devono conoscere bene perché è da lì che si poi si formeranno anche come cittadini democratici e cittadini che hanno a cuore le sorti di un paese che nasce da quelle sofferenze, da quei tormenti. Non si spegne il ricordo del grande Giacomo Bulgarelli, il capitano del Bologna, scomparso il 12 febbraio scorso, proprio ieri gli è stata intitolata la Curva Andrea Costa. Si chiamerà dunque il cuore del tifo rosso-blu Curva Giacomo Bulgarelli. La decisione è stata presa dai familiari del grande capitano insieme ai tifosi ma soprattutto alla società. Si era pensato di intitolargli anche la Torre di Maratona e poi invece la scelta è caduta giustamente sul cuore del tifo e quel cuore pulsante che aveva accompagnato Giacomo Bulgarelli durante le sue tante battaglie sul campo del Bologna. Questa mattina poi, sempre a Giacomo Bulgarelli, è stato intitolato un nuovo club. Un club intitolato a Giacomo Bulgarelli. Ci sono otto soci fondatori. Il presidente sarà il professor Emilio Franzoni. Il tutto è avvenuto in una cornice davvero particolare. L'Osteria del Sole, Vicolo Ranocchi, pieno centro di Bologna, un'Osteria del 1400, nella quale Giacomo Bulgarelli era solito andare a giocare a carte e a trascorrere le sue ore libere. Un recupero dunque della sua memoria e di questa bolognesità che ha caratterizzato anche il momento del saluto della città al grande Giacomo. Finisce qui, amici, il resto del Carlino Tg del 25 marzo. Arrivederci a domani.